La condanna Kafka Era una mattinata domenicale, nel momento più bello della primavera. George Bentman, un giovane commerciante, sedeva nella sua stanza al primo piano, in una di quelle case basse e fragili, che seguendo il fiume si allineavano in una lunga serie, distinguendosi quasi solo per l'altezza e il colore. Aveva finito allora una lettera ad un amico d'infanzia che viveva all'estero. La chiuse con una lentezza compiaciuta, quasi giocherellando, e contemplò poi coi gomiti appoggiati sulla scrivania, fuori della finestra, il fiume, il ponte e le colline sulla sponda opposta, coperte di tenero verde. Meditava sul fatto che questo amico, scontento della sua esistenza in famiglia, già da anni si era rifugiato in Russia. Esercitava un commercio a Pietroburgo, che da principio prometteva bene, ma che già da parecchio tempo sembrava essersi arrestato, come si lamentava l'amico, durante le visite che avvenivano sempre più di rado. Si affannava in vano, così, in terra straniera. La barba, tenuta secondo la moda forestiera, copriva appena il volto, ben noto fin dall'infanzia, e la pelle giallognola pareva accennare a una latente malattia. Secondo quel che raccontava, non era in rapporti attivi con la colonia dei suoi connazionali, né aveva stretto quasi nessuna relazione d'amicizia con famiglie del luogo, e si avviava così a restare definitivamente scapolo. Cosa scriveva ad un uomo come quello, che evidentemente aveva sbagliato strada, che si poteva compiangere ma non aiutare? Forse consigliargli di tornare in famiglia, di trasferire di nuovo la sua esistenza in patria, di riprendere le antiche relazioni d'amicizia, e sin qui non si sarebbero incontrati ostacoli, affidandosi in quanto al resto all'aiuto di amici. Ma questo significava semplicemente dirgli insieme, e con quanto maggior riguardo gli fosse stato detto, tanto più avvilente sarebbe stato per lui, che i suoi precedenti tentativi erano falliti, che doveva ormai abbandonarli, tornare, rassegnandosi a farsi guardare da tutti con gli occhi spalancati, come chi rimpatia per sempre. Che soltanto gli amici avevano capito qualcosa, mentre lui era un fanciullone, cui non restava che obbedire a quelli che erano rimasti e avevano successo nella vita. E sarà poi sicuri che la pena che gli si procurava avrebbe avuto una giustificazione? Forse non si sarebbe neppure riusciti a farlo tornare a casa. Aveva detto lui stesso di non comprendere più il modo di vivere del suo paese, e se ne sarebbe rimasto così, nonostante tutto, all'estero, amareggiato da tutti quei consigli e ancor più lontano di prima dagli amici. Se poi avesse accettato il consiglio e arrivato in patria si fosse sentito, naturalmente non per deliberato proposito, ma per la fatalità degli eventi, oppresso, non si fosse riaffiatato con gli amici, né rimesso senza di loro. Si fosse sentito umiliato e avesse finito col non aver davvero più né patria né amici, non sarebbe stato allora molto meglio per lui restare all'estero così come era? Date le circostanze del momento, si poteva davvero pensare che egli sarebbe riuscito a spuntarla? Per queste ragioni, se si voleva restare almeno in rapporti epistolari ancora con lui, non gli si potevano comunicare notizie vere e proprie, come si danno invece senza riguardo anche al più lontano dei conoscenti. L'amico non era più stato in patria da più di tre anni e giustificava alla meglio questa assenza con la instabilità della situazione politica russa che, a quanto diceva, non consentiva a un piccolo commerciante come lui neppure la minima assenza, mentre centinaia di migliaia di russi giravano tranquillamente per il mondo. Ma, appunto, in quei tre anni molti mutamenti erano avvenuti per Giorgio. Della morte della madre, avvenuta circa due anni prima e in seguito a cui Giorgio aveva cominciato a vivere insieme al vecchio padre, l'amico aveva ancora avuto notizia ed aveva espresso in una lettera le sue condoglianze, ma con un'aridità che si poteva spiegare solo pensando che il dolore per un simile evento appare addirittura inspiegabile a chi vive lontano. Proprio in quel momento Giorgio aveva cominciato a mettere più impegno non solo in tutte le cose, ma particolarmente negli affari. Forse, quando era ancora viva la madre, il padre, imponendo all'andamento della ditta unicamente la sua volontà, gli aveva impedito di avere un'attività propria. Forse, pur continuando ad occuparsi degli affari, il padre, dopo la morte della madre, si era fatto più discreto. Forse, fortunate circostanze, ed era l'ipotesi più probabile, avevano avuto un ruolo ancora più importante. Comunque, in quei due anni, la ditta si era inaspettatamente sviluppata. Si era dovuto raddoppiare il personale, la vendita era quintuplicata, un ulteriore progresso era ormai sicuro. L'amico, però, di questi mutamenti non aveva neppure un'idea. In passato, per l'ultima volta, forse, nella lettera di condoglianze, aveva cercato di convincere Giorgio ad emigrare in Russia, diffondendosi sulle possibilità di successo che, proprio per il genere di commercio esercitato da lui, si sarebbero offerte a Pietroburgo. Le cifre, però, risultavano trascurabili in confronto al giro d'affari che la ditta di Giorgio aveva ormai raggiunto. Egli non si era però sentito di narrare all'amico i suoi successi e, se lo avesse fatto in ritardo, sarebbe parso molto strano. Così egli si limitava a parlare solo di casi insignificanti, come si presentano confusamente alla memoria quando ci si ripensa in una tranquilla domenica. Non desiderava altro che lasciare intatta l'immagine che l'amico sarà fatta della sua città natale durante quel lungo intervallo di tempo e da cui si era ormai a suo effatto. Capitò così a Giorgio di annunciare all'amico, in tre lettere piuttosto distanti tra loro, il fidanzamento di un qualsiasi tizio con una ragazza ugualmente indifferente, sicché l'amico cominciò ad un tratto ad interessarsi di questo fatto contro l'intenzione di Giorgio. Ma egli preferiva scrivere notizie simili piuttosto che confessargli di essersi fidanzato lui stesso un mese prima con una certa signorina Frida Brandenfeld che apparteneva a una famiglia agiata. Parlava spesso con lei di questo amico e del carattere tutto particolare della loro corrispondenza. Così non verrà per il nostro matrimonio diceva lei eppure ho il diritto di conoscere tutti i tuoi amici. Non voglio disturbarlo rispondeva Giorgio cerca di capirmi egli forse verrebbe almeno lo suppongo ma si sentirebbe a disagio e diminuito forse mi invidierebbe e ripartirebbe solo soletto certo scontento e incapace di superare questa sua scontentezza. «Esser solo sai cosa vuol dire ma non può darsi che venga a sapere ugualmente del nostro matrimonio? Questo certo non lo posso impedire ma con la vita che fa mi sembra improbabile. Se avevi degli amici come lui Giorgio non avresti dovuto neanche fidanzarti. In questo caso la colpa è di tutte e due ma ormai non vorrai mutare questa situazione». E quando ansando sotto i suoi baci Frida ripetè eppure è avvilente per me egli pensò che in fondo era naturale raccontar tutto all'amico «Son fatto così e così mi deve prendere» si diceva «e non posso fare di me come un figurino che forse sia dati ad essergli amico più di quello che non sia io». Nella lunga lettera che aveva scritto in quella mattinata domenicale dava infatti notizie all'amico dell'avvenuto fidanzamento con queste parole «La nuova più bella me la sono osservata in fondo mi sono fidanzato con la signorina Frida Brandenfeld una ragazza appartenente a una famiglia agiata che si è stabilita qui molto tempo dopo la tua partenza e che perciò sarà difficile tu conosca avrò ancora occasione di parlarti più a lungo della mia fidanzata per oggi ti basti sapere che sono molto felice e che i rapporti tra noi due sono cambiati solo in questo senso che d'ora in avanti avrai in me invece del solito amico un amico felice inoltre avrai nella mia fidanzata che ti saluta cordialmente e che presto ti scriverà direttamente un'amica sincera cosa che per uno scapolo non è poi senza importanza so che molte ragioni ti trattengono dal farci una visita ma non sarebbe proprio il mio matrimonio una buona occasione per togliere di mezzo una buona volta tutti gli ostacoli comunque sia opera senza riguardo e soltanto come credi meglio con questa lettera in mano Giorgio era rimasto a lungo seduto dinnanzi alla scrivania volgendo la faccia alla finestra al saluto di un conoscente che passava per strada aveva risposto appena con un sorriso assente infine mise in tasca la lettera e uscendo dalla camera attraversò un piccolo corridoio per entrare in quella di suo padre in cui non era stato da mesi non ce n'era del resto alcuna necessità poiché egli era continuamente in contatto col padre in ufficio pranzavano insieme in un ristorante alla cena provvedeva ognuno per conto proprio ma dopo se Giorgio come avveniva spesso non passava la sera con gli amici o andava a trovare la fidanzata si trattenevano di solito ancora un po' in salotto ognuno col suo giornale Giorgio notò con stupore come fosse oscura la camera del padre anche in quel mattino solleggiato il muro alto che si levava al di là dello stretto cortile gettava dunque tanta ombra il padre seduto vicino alla finestra vicino ad un cantuccio ornato di vari ricordi della madre defunta leggeva il giornale che teneva obliquamente dinanzi agli occhi per rimediare a una qualche debolezza della vista sulla tavola c'erano i resti della colazione che era stata consumata solo in minima parte oh Giorgio disse e gli venne subito incontro la sua pesante veste da camera si apriva quando si muoveva e gli orli gli svolazzavano intorno mio padre è ancora un gigante pensò Giorgio qui c'è un'oscurità insopportabile disse poi eh sì è proprio buio rispose il padre tieni chiusa anche la finestra lo preferisco ma fuori fa proprio caldo ribatte Giorgio come per concludere quel che aveva detto prima e si sedette il padre portò via il vassoio della colazione e lo pose su di un cassettone volevo soltanto dirti continuò Giorgio che seguiva tutto assorto i movimenti del vecchio che ho finito per comunicare a Pietroburgo il mio fidanzamento tirò fuori un poco la lettera dalla tasca e ve la rinfilò poi subito a Pietroburgo domandò il padre ma sì al mio amico rispose Giorgio cercando gli occhi del padre e pensò in ufficio è tutto un altro in ufficio è tutto un altro come se ne sta seduto qui solennemente con le braccia incrociate sul petto sì al mio amico disse sì al tuo amico disse il padre scandendo le parole sai pure babbo che da principio volevo passare sotto silenzio il mio fidanzamento per riguardo verso di lui e non per altra ragione lo sai anche tu che ha un carattere difficile io mi sono detto può venire a saperlo da altri benché sia poco probabile data la vita solitaria che conduce non lo posso impedire ma io stesso non voglio essere il primo a dirglielo e ora hai cambiato idea chiese il padre mettendo il grosso giornale sul davanzale della finestra e sopra gli occhiali che coprì con la mano sì ci ho ripensato se egli è veramente un buon amico mi sono detto allora questo fidanzamento che è per me una fortuna renderà felice anche lui perciò non ho più indugiato a comunicarglielo ma prima di imbucare la lettera ho voluto dirglielo Giorgio disse il padre allargando la bocca sdentata senti sei venuto da me per consigliarti con me in questa faccenda questo senza dubbio ti fa onore ma non è nulla non è men che nulla se ora non mi dici tutta la verità non voglio rivangare cose che non hanno nulla a che vedere con questa dopo la morte della nostra cara mamma ne sono accadute alcune non molto belle forse verrà anche per loro il momento giusto e forse prima di quel che non si pensi in ufficio mi sfuggono molte cose non dico che mi si nascondano non voglio neppure farla per ora questa supposizione non sono più abbastanza in forze la mia memoria si è indebolita non riesco più ad abbracciare con un sol colpo d'occhio tutto l'insieme in fondo è legge di natura e poi la morte della nostra mammina mi ha accasciato molto più di te già ma già che si è toccato questo argomento già che siamo a questa lettera ti prego Giorgio non mi ingannare è una piccolezza non vale la pena di perderci il fiato dunque non mi ingannare hai davvero questo amico a Pietroburgo Giorgio si alzò imbarazzato lasciamo stare i miei amici mille amici non potrebbero sostituire mio padre sai cosa credo non ti riguardi abbastanza ma la vecchiaia ha i suoi diritti negli affari mi sai indispensabile lo sai bene ma se dovessero minacciare la tua salute chiuderai la ditta domani stesso e per sempre così non va occorre trovare per te un altro tenor di vita cambiarlo radicalmente te ne stai qui al buio e in salotto potresti godere di una splendida luce tocchi appena la colazione invece di nutrirti per bene stai qui chiuso con la finestra chiusa mentre l'aria ti gioverebbe tanto no babbo chiamerò il medico e seguiremo le sue prescrizioni cambieremo camera tu andrai in quella davanti ed io verrò qui non avrai modo di notare il mutamento perché porteremo di là tutte le cose ma c'è tempo per tutto ciò ora mettiti intanto un po' a letto hai certamente bisogno di riposo vieni ti aiuterò a spogliarti vedrai che ci riesco o forse vuoi andare subito di là ti potresti coricare intanto nel mio letto sarebbe una cosa molto ragionevole Giorgio si trovava vicinissimo al padre che aveva lasciato cadere la testa canuta e arruffata sul petto Giorgio disse piano il padre senza muoversi Giorgio si inginocchiò subito al suo fianco vedeva nel volto stanco del padre le pupille dilatate che lo fissavano dagli angoli degli occhi tu non hai nessun amico a Pietroburgo sei stato sempre un capo a meno e non ti sei arrestato neppure di fronte a me ma come potresti avere un amico proprio là non ci posso proprio credere ma ricordati babbo disse Giorgio sollevando il padre dalla poltrona e mentre se ne stava faticosamente eretto levandogli la veste da camera saranno ora quasi tre anni che il mio amico venne a farci visita mi ricordo ancora che non ti era molto simpatico almeno due volte ho negato davanti a te che ci fosse per quanto si trovasse proprio in camera mia comprendevo molto bene la tua avversione per lui il mio amico è piuttosto un originale ma dopo hai finito per intrattenerti proprio cordialmente con lui ed ero tutto orgoglioso allora che tu lo avessi ascoltato approvato e gli facessi delle domande se ci pensi te ne ricorderai di certo raccontava allora delle storie inverosimili sulla rivoluzione russa per esempio di aver visto durante un viaggio d'affari a Kiev in un tumulto un prete che incideva sul palmo della mano una grossa croce sanguinante e la levava poi in alto chiamando a gran voce la folla tu stesso hai ripetuto questa storia ogni tanto intanto Giorgio era riuscito a rimettere il padre in poltrona e a levargli le mutande di maglia che portava su quelle di lino e anche a sfilargli i calzini a vedere quella biancheria non troppo pulita si rimproverava di aver trascurato il padre sarebbe stato certo dover suo pensare anche al cambio della biancheria di suo padre con la fidanzata non aveva ancora studiato di proposito il modo di sistemare in futuro il padre perché ambedue supponevano tacitamente che gli sarebbe rimasto solo nella vecchia dimora ora ora però decise senz'altro di prenderlo con sé nel futuro arredamento della sua casa e poteva sembrare quasi a guardare le cose da vicino che le cure che gli sarebbero state prodigate là sarebbero giunte troppo tardi sulle sue braccia portò il padre a letto ebbe una sensazione orribile quando si accorse che mentre faceva quei pochi passi verso il letto il padre sul suo petto giocherellava con la catena dell'orologio e non riuscì subito a stenderlo nel letto da quanto egli si teneva saldo alla catena appena fu a letto però tutto sembrò concluso felicemente il vecchio si coprì da sé tirandosi poi la coperta parecchio più in su delle spalle lo sguardo levato verso giorgio non pareva ostile è vero che ora ti ricordi di lui domandò giorgio amicandogli quasi per fargli animo sono coperto bene ora chiese il padre come se non potesse arrivare a vedere se i piedi fossero coperti abbastanza ti trovi dunque bene a letto disse giorgio incalzandogli ancora le coperte dalle parti sono ben coperto ripete il padre e parve fare molta attenzione alla risposta dai pur tranquillo sei coperto bene no gridò il padre con tanta forza che la risposta si incontrò quasi con la domanda e gettò indietro la coperta con tanto impeto che per un momento confiandosi si stese tutta e si rizzò sul letto solo con una mano si appoggiava un po' al soffitto mi volevi coprire lo so figliolino mio ma coperto non sono mi volevi coprire lo so figliolino mio ma coperto non sono ancora anche se l'ultimo sforzo è più che sufficiente è anche troppo per te conosco bene il tuo amico sarebbe stato un figlio secondo il mio gusto perciò lo ha ingannato durante tutti questi anni perché altra ragione credi forse che non abbia pianto per lui soltanto perciò ti rinchiudi nel tuo ufficio nessuno deve disturbarti il direttore è occupato è solo per scrivere le tue false letterine in Russia ma al padre per fortuna non c'è bisogno che nessuno insegni a conoscere il proprio figlio e quando hai creduto di averlo messo a terra tanto da potergi mettere sopra il tuo sedere senza che egli osasse muoversi ecco che il signor figlio si decide a prendere moglie Giorgio alzò lo sguardo verso quella spaventosa immagine di suo padre l'amico di Pietroburgo che il padre conosceva ad un tratto così bene lo colpì come ancora mai lo vedeva sperduto nell'immensa Russia sulla soglia del negozio vuoto saccheggiato ritto tra gli scaffali in rovina la merce stracciata e i bracci dei lumi a gas penzoloni perché era poi dovuto andare così lontano ma guardami dunque gridò il padre e Giorgio corse quasi per distrazione verso il letto per afferrare tutto a metà strada però si arrestò perché ha alzato le sottane cominciò con voce flautata il padre perché ha alzato le sottane a questo modo quell'oca ripugnante e per rappresentare la scena si tirò sulla camicia tanto da scoprire sulla coscia la cicatrice della ferita riportata in guerra perché ha alzato le sottane così e così ti sei fatto innanzi e per poterti saziare indisturbato hai profanato il ricordo di tua madre tradito l'emico e ficcato a letto tuo padre perché non si potesse più muovere ma si può muovere sì o no t'aveva ormai ritto senza alcun sostegno dimenando le gambe raggiante del suo acume Giorgio si era rifugiato in un cantuccio il più distante possibile dal padre già da un pezzo si era fermamente proposto ad osservare tutto attentamente per non venir colto alla sprovvista da qualche parte a tradimento di dietro dall'alto in quel punto si ricordò di quel proposito da tempo dimenticato e se lo dimenticò ancora come quando si fa passare dalla cruna ad un ago un filo troppo corto l'amico invece non è ancora tradito gridò il padre muovendo l'indice in qua in là come per rafforzare questa affermazione io sono stato qui il suo difensore commediante non poté trattenersi dall'esclamare Giorgio ma si rese subito conto di aver fatto una mossa sbagliata e si morse ma troppo tardi con gli occhi sbarrati da lingua e così forte che dal dolore si ripiegò su se stesso ma certo che hai recitato una commedia commedia è la parola giusta quale altra consolazione rimaneva al vecchio padre vedovo dimmi per quell'attimo in cui mi risponderai se hai ancora mio figlio che mi rimaneva da fare nella mia camera nascosta perseguitato dal personale infedele vecchio come sono fino alle ossa e mio figlio se ne andava lieto per il mondo conchiudendo affari che io avevo preparato facendo salti dalla gioia passando dinanzi a suo padre con la faccia compunta di un galantuomo credi forse che non ti ho amato io da cui tu sei nato ora si piegherà in avanti pensava Giorgio se cadesse e si fracassasse questa parola gli passò come un sibilo per il capo il padre si curvò in avanti ma non cadde vedendo che Giorgio non si avvicinava si rizzò ancora rimani dove sei non ho bisogno di te tu credi di avere ancora la forza di venir sin qui e non ti muovi soltanto perché così vuoi non ti ingannare sono ancora il più forte e di molto da solo sarei stato costretto forse a cedere ma la mamma mi ha ceduto la sua forza col tuo amico ho stretto una magnifica alleanza la tua clientela l'ho qui in tasca perfino nella camicia alle tasche si disse Giorgio credendo con questa osservazione di rendere inverosimile il padre davanti al mondo intero lo pensò solo per un istante perché dimenticava sempre tutto di continuo prendi pure a braccetto la tua fidanzata e vieni mi incontro te la spazzo via dal fianco e non sai come Giorgio fece delle smorfie come per dimostrare che non ci credeva il padre fece solo un cenno con la testa verso il cantuccio dove si trovava Giorgio per confermare quel che diceva come mi hai divertito oggi quando sei venuto a chiedermi se dovevi scrivere al tuo amico del fidanzamento ma stupidone se sa già tutto proprio tutto l'ho scritto io dal momento che hai dimenticato di togliermi la carta da lettere ed è perciò che non viene da anni sa tutto cento volte meglio di te le tue lettere le sguelzisce senza leggerle con la mano sinistra mentre con la destra tiene spiegate le mie per leggerle e agitava il braccio nell'esaltazione e al di sopra della testa sa tutto mille volte meglio gridò diecimila volte disse Giorgio per delidere il padre ma sulla sua bocca la parola assunse un'inflessione profondamente seria già da anni sto aspettando da te questa domanda credi forse che mi interesse di qualche cosa d'altro c'è di chi io legga i giornali ecco e gettò a Giorgio un foglio di un giornale che era capitato nel letto chissà come un vecchio giornale con un titolo che era completamente sconosciuto a Giorgio quanto hai indugiato prima di arrivare a questo punto la mamma ha dovuto morire e non si è potuta godere questo giorno di felicità l'amico sta finendo i suoi giorni in Russia già tre anni fa era giallo da morire ed io lo vedi da te come sono ridotto avrai pure gli occhi per vederlo dunque mi hai aspettato al varco gridò Giorgio e il padre come tra sé rispose con aria di compatimento questo lo volevi dire forse prima ora è proprio fuori luogo poi più forte ora sai dunque ciò che esiste al di fuori di te finora non conoscevi che te stesso eri davvero un bambino innocente ma ancor più un essere diabolico e per so sappi ti condanno a morire affogato Giorgio si sentì cacciato fuori della camera il tonfo che fece il padre dietro a lui cadendo sul letto gli risuonava ancora negli orecchi sulla scala scivolando giù dai gradini come se fosse un piano inclinato urtò contro la donna di servizio che stava per salire a rimettere in ordine le stanze dopo la notte Gesù mio gridò coprendosi il viso col grembiule ma egli era già lontano salto fuori del portone di casa traversò le rotaie del tram spinto irresistibilmente verso l'acqua già afferrava la ringhiera come un affamato prende il cibo la superò con uno slancio da quell'eccellente ginnasta che era stato da ragazzo orgoglio dei genitori si trattenne ancora con mani che andavano indebolendosi intravide tra le sbarre della ringhiera un autobus che molto facilmente avrebbe soverchiato col suo rumore il tonfo della sua caduta gridò piano cari genitori pure vi ho sempre amati e si lascia poi cadere giù in quel momento sul ponte c'era un interminabile di rivieni di persone e di veicoli con